ciao a tutti e benvenuti da tina e oggi siamo qui con una nuovo con un nuovo video della nostra sezione shopping si ragazzi finalmente un altro video di questa sezione che vi piace quindi siamo molto molto contenti questa volta però questo video è in collaborazione con un sito chiamato new chic il link di questo sito ve lo lasceremo sia qua sotto nell'info box che qua da qualche parte vi apparirà così poi cliccate e andrete subito su questo meraviglioso sito delle cose bellissime veramente che costano anche poco ed inoltre quindi qua sotto nell'info box vi lasceremo sia il link del sito che dei due prodottini che ci ha voluto omaggiare appunto new chic noi li ringraziamo moltissimo ma un prodottino per me questo qui e uno per tipo enorme ok inoltre ragazzi udite udite avrete aspetta quando vorrete acquistare appunto su questo sito potete utilizzare un codice sconto del 15 per cento già i prezzi sono bassi quindi in più c'è uno sconto li pagate proprio niente questi prodotti quindi vi lasceremo qua sotto il codice sconto che dovrete inserire quando visiterete il sito di new chic quindi direi subito di aprire questi due pacconi ragazzi guardate uno grande e uno più piccolino sono molto molto curiosi noi non sappiamo di cosa si tratta vediamo un po' ah inoltre ragazzi volevamo dire che queste due maglie la mia e quella di pippo di spiderman l'avete vista già nel secondo video shopping quindi vi sono piaciute molto ci avete fatto dei complimenti siamo molto contenti quindi andate a vedere anche quel video di cui vi lasceremo il link qua sopra da qualche parte è una crema oh mamma cos'è andiamo no ragazzi io l'ho vista cioè sta spopolando questa crema si è proprio lei quella lì infatti io la volevo comprare mi è arrivata sarebbe quella crema nera che si mette per i punti neri io ne ho moltissime dire la verità però comunque alcuni si quindi non le avrò più grazie a questa crema adesso ve la faremo vedere meglio e comunque io la vedo dappertutto questa crema tutti su instagram facebook usano questa qui bellissima e praticamente sarebbe come una crema nera che si mette ad esempio sul naso dove si hanno più punti neri e diventa una maschera si solidifica e poi si toglie e i punti neri svaniranno allora guardiamo se insieme eccola qua appunto c'è scritto black mask maschera nera water ice levin ok e poi appunto così va a bevare ingredienti 60 grammi proviamo ad aprirla se tu forbi ci mi passano sempre vabbè proviamo con le forbici ah non capito pianissimo eh non capire ah no ah ok si è già aperta no no piano eh no si deve fare così si ragazzi sono contentissima la volevo tanto questa crema lo vedevo dappertutto veramente forse anche voi l'avrete visto e adesso la proveremo insieme però non è che la metto io normalmente ma per farlo un po' divertente me la metterò a pippo vero? si si infatti mi è molto contento non vede l'ora aspetta aspetta fammela aprire pianissimo premola insieme ragazzi oh mamma che bello sono contentissima ma si è proprio lei che bello eccola qua ma vale ok vediamo un pochino il booklet che magari dice quanto deve stare quanto bisogna lasciarla sul aspetta pippo non aprirla consiglio applicare una quantità adeguata se la maschera è troppo sottile non sarà facile da staccare e l'effetto è solamente lo stesso se è troppo spesso al tempo di attesa ok bisogna applicarla quindi in una giusta quantità non troppo poca nemmeno troppa piano pippa non speciale ci guardate ok consigliate di applicarla almeno una volta alla settimana perfetto ok c'è anche gli ingredienti quindi potete anche vedere se ci sono degli ingredienti ci guardate è piano piano ok ragazzi abbiamo letto un po' le modalità d'uso praticamente bisogna pulire la pelle del viso con del latte detergente poi con un asciugamano caldo bisogna starci un po' 3-5 minuti per aprire i pori poi applicare la maschera in modo uniforme sul naso mento guance evitate mi raccomando la parte sotto gli occhi perché come sapete è molto delicata quindi non sotto gli occhi attendere attendere che si attendere che si asciughi circa 10-15 minuti delicatamente strappare via la maschera dall'alto verso il basso lavare poi con acqua calda asciugare il viso applicare i prodotti per la cura della pelle per restringere i pori io per motivi di tempo ecco adesso vi faccio vedere senza appunto lavare prima vi faccio vedere solamente come si applica e poi come si toglie e vediamo già il risultato com'è naturalmente voi fate tutta la procedura anche io le prossime volte farò tutta la procedura ok Pippo è arrivato il tuo momento mettine fai piano ok te ne metto io la quantità sul litino guardate un po' Pippo come mi trucca come mi mette la cremina allora guarda cioè ragazzi c'è una consistenza guardate che colore bellissimo e se solo sul naso oh mamma mi sono macchiata tutte le mani naturalmente ragazzi ma non è una novità ok Pippo vai solo sul naso sopra wow la consistenza ragazzi bellissima vai metti ok adesso finisco di mettermela io nelle parti guardate sono tutta nera adesso la metterò bene bene qua ve li faccio vedere meglio ecco qua è una sensazione bellissima ragazzi potrei aprire anche il mio pacco tu inizio ad aprirlo io sarò così per tutto il il periodo della recensione del regalo di Pippo aspetta prima di farla vedere ragazzi cioè guardate come mi sono combinate aspetta aspetta non farla vedere ancora non far vedere il regalino mi raccomando mettete uno strato così né troppo sottile e né troppo denso guardate ci ho messo un pacco ok ragazzi direi basta così vabbè c'è un altro pacco bello veramente aspetta ah c'è un pacco nel pacco aspettate ragazzi mi vado un attimino a lavare le mani e poi torniamo eccomi qua ragazzi mi sono bene bene lavate le mani e questo è il regalo di Pippo c'è un buon ricaricatore USB no ma non mi dire cioè ragazzi sono le scarpe USB queste qua sapevamo già un po' questo regalino perché appunto abbiamo dovuto dare il numero di Pippo però noi ce le aspettavamo così guardate sono rosse guardate che carine hanno sia lo strappo qua che i laccetti c'è c'hanno la carica USB e hanno sono quelle modello nuovo quindi sia la mia crema che queste scarpe sono proprio del momento si ricaricano USB perché appunto si illuminano come potete vedere qua la suola ok guardate che carine cioè bellissime qua traspira ci sono anche dei buchi così traspira anche il sudore e poi secondo me sono molto comodi guardate come si cioè wow ti piacciono Pippo sì sì sono bellissime ok appunto poi c'è il cavetto per ricaricarle in modo tale che poi riescono poi ad illuminarsi aspetta dopo alla fine del video vi faremo vedere Pippo che cammina su queste scarpe mentre si illuminano vero Pippo? sì intanto vi voglio far vedere dove si ricaricano ok guardate un po' dentro la scarpa eccola qua questa cosina bianca in questa qua questo buchetto si mette si ricarica si mettere queste queste spine questi spinotti in modo tale che poi si ricaricano wow proprio davvero fighetto eh Pippo bellissime ok io adesso aspetto ancora un pochino per togliere la maschera e poi la togliamo con voi con voi ok ragazzi hai passato il tempo che appunto si deve aspettare quindi 10-15 minuti e adesso togliamo in diretta la maschera allora inizio io poi magari al fondo me la togli Pippo va bene sì quindi bisogna tirare dall'alto verso il basso e poi quando finirò il video andrò a sciacquarmi con acqua calda allora proviamo un po' sì ragazzi si è solidificata in modo bellissimo veramente allora eccola qui eccola ragazzi ok andiamo avanti cioè guardate come si toglie wow cioè prendetela anche voi perché è bellissima guardate appunto rimangono tutti i poretti ok poi naturalmente gli ultimi pezzi li si riescono a togliere anche molto bene vediamo un po' questi qua ok adesso vado in bagno per togliermi gli ultimi pezzi più piccoli ragazzi ho tolto la maschera e vi posso dire che i risultati si vedono anche solo al primo passaggio cioè al primo utilizzo però si vedono sono contentissima e non ho fatto la procedura iniziale cioè di aprire i pori quindi anche solo mettendola un po' di effetto fa immagino quindi fare tutto il trattamento verrà una pelle bellissima quindi anche voi compratela mi raccomando visitate questo fantastico sito New Chic e ragazzi siamo rimasti contentissimi ringraziamo ancora questo sito cioè queste scarpe sono bellissime vero Pippo? sì assolutamente guardate faccio così assolutamente le sono piaciute tantissima e anche a me la mia crema ma mi posso caricare il cellulare ok quindi adesso alla fine del video vedrete Pippo che cammina con queste scarpe tutte belle illuminate vero? sì sì quindi mi raccomando visitate il sito cliccate sui link anche di questi due prodottini così basta che cliccate quel link che sarete subito nelle pagine di questi due prodotti per vedere meglio i dettagli e per acquistarli quindi se è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su se siete rischietti da stoccare così per notarci attivicare questo video con i vostri scemi e se resta la bomba brevissima vi facciateci bellissimi commenti come fate sempre noi vi ringraziamo tantissimo e quindi saluti da Tina e vi prego in un certo prossimo video ciao adesso vedete i miei scappi illuminati sì sì iscriviti al nostro canale grazie a tutti